ciao a tutti e bentornati sul mio canale io sono Giorret e prima di vedere il video vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti sull'isola iniziamo è andata in onda una nuova puntata dell'isola dei famosi edizione 2023 è uno dei momenti più attesi è stato sicuramente il risultato dell'ultimo televoto in atto e le nomination 5 i vip a rischio noise mazzoli elena gian maria s in atto e fiore argento quest'ultima ha abbandonato il gioco per motivi di salute mentre l'eliminato di ieri sera è stato gian maria s in atto e ha raggiunto l'isola di sant'elena e su sant'elena aggiungiamo che dopo un televoto flash tra christophe e la caldonazzo quest'ultima è rientrata in gioco con gli altri naufraghi ma scopriamo invece chi va a rischio eliminazione questa settimana e sono elena che è la nominata dal gruppo pamela e fabio de jalis che sono invece nominati dai leader e voi chi state salvando scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio da john red